ed eccoci qua finalmente dopo tanto tempo l'ultimo video credo ebbene sì alla fine ci siamo ultime due battaglie mandiamo a casa questi questa sarà un po' difficilotta forse o forse no forse sì e poi abbiamo da fare l'assedio quindi allora c'è ci sono ancora molte battaglie da fare questo è vero eh però diciamo così non si finisce mai cioè andiamo avanti per altri 200 turni però tutto sommato dai la situazione è stabile abbiamo respinto i goti abbiamo le nostre truppe vabbè questi ma non è un grosso problema potrei anche farli fuori così in automatico per dire perché tanto questi li ammazzo questi qui non sono un problema ci stiamo espandendo in sud Italia stiamo andando a colpire gli arabi l'armenia ormai diciamo è piegata qui devo soltanto eh già che ci sono qui vabbè che ormai poca importanza ho questo si muove qua e questo può tornare indietro volendo dove ho lasciato la flotta? la flotta sta qua per dire lo rimando indietro qui è tutto difeso e qui ci siamo si quindi la guarnigione e vabbè in 814 ah 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 sono tutti ridotti male buono hanno buone truppe si tutte veterane sicuramente questi sono veterani delle guerre contro i Kushan e immagino gli Eptalite gli Eptalite dunque classico schieramento e si può partire sono tutti storti no non avevo notato che hanno gli elefanti oh per la prima volta vediamo degli elefanti da guerra qui su invasio barbaro cosa fanno? scappano beh noi ci posizioniamo beh no ci posizioniamo così si sembra che si voglia posizionare un po' più da questo punto io prenderei comunque loro vengono eh ma i rinforzi tanto non entrano perché perché si quindi facciamo così magari questi li mettiamo per così la mia cavalleria si sposta per cos'ha aspetta 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 forse forse è meglio mantenere però questa andatura di avanzata si i miei arcieri li pestiamo per così la mia cavalleria però non si muove qui a questo punto si questi mi facciamo avanzare questi mi fanno da velo come sempre possiamo perdere qua se entrassero mi farebbero un gran favore non capisco perché non vogliono mai entrare però aspetta che questi sono un po' lenti queste cavallerie pesanti immagini beh no sono arcieri anche loro è stato un piccolo crash non so come mai strano non succedeva dai tempi dell'assedio di colonia d'Ace ok niente di strano per adesso eh qui sono forti però che è stato un po' l'abbiamo che è stato un po' l'abbiamo che è stato un po' l'abbiamo questi fanno male però dov'è la mio eh eh questi fanno male E guardate Questi come cazzo si sono messi? Il mio alleato non ne vuole sapere di entrare in battaglia Aspetta che qui si è messo male Eh ammazzagliare i fanti non sarebbe male Beh ammazzagliare i fanti non sarebbe male Ho scoperto E guardate Perchè Hanno di buoni arcieri, questo sì. Dunque, facciamo che avanziamo e avanziamo, e così la cavalleria. Sì. Eh, non ne vogliono sapere di morire, però, eh. Aia! Continuiamo ad avanzare con la cavalleria. Eh, questi non sarebbero male. Proviamo una carica. Proviamo una carica. Dai, c'erano guassi. Ok, questi li abbiamo 10. Oh, entra in Reinforcer finalmente. Si vede che ho perso qualche unità. Perfetto. Voi vi spostate qua su. Voi vi spostate qua, voi tenete la linea. Ah, ho perso le baliste. Eh, vabbè. Tutto dovresti anche muovere. Riorganizziamoci. Ok. Gli elefanti non penso che riusciranno a batterli, perché sono elefanti. a meno che gli gli diamo fuoco. Ok, questi sono andati a schiantare contro i miei. Teniamo la posizione. Sì, eh... Allora, però devono attaccarmi gli elefanti più che altro. Oh, mi arrivano un po' di rinforzi. Ci organizziamo. Allora, fermi. attaccate questi. Andiamo ad attaccare questi. Attacchiamo il generale. Selefanti non ho capito che vogliono fare. attacchiamo il generale nemico è stato ucciso. E ora è il generale nemico è stato ucciso. che i miei uomini ci temono. È il momento di intensificare l'attacco. E questi sono in fuga. Perfetto. Questi hanno ancora frecce. qualcuno. No, gli dovete dar fuoco. basti elefanti maledetti. Ok, qui diciamo che ci siamo, no? Cosa altro abbiamo ancora? Questi sono integri, quindi li spostiamo contro questi. Tipo, questi stanno combattendo. Eh, qua è fanteria bella tosta, eh. Quindi magari questi. No, 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 io non li spreco per quelli. Attacchiamo questi. Tallerie intercettate questi. Questi possono rompere la formazione e attaccare questi. Ok, anche questi via. 17. Credo che qualcuno è stato buttato giù, ma... Restano comunque una spina nel fianco. Voi andate a ammazzarmi questi. Ok. Ok, questi sono in fuga. Perfetto. Eh, il problema sono gli elefanti. A parte voi. E che facciamo? Come ai campi del pelle, un'altra un po'. Eh, più di così non posso fare. Questi subiscono l'attacco di qui. Eh, basta. Ok. Uccidimi. Mi importa poco. Ah! Come non detto. Dei rinforzi. Eh sì, questi sono in fuga. Questi li attacchiamo. 15. Quindi ci posizioniamo così. La mia cavalleria si posiziona per così. questi. Questi per ticco. E ci sono gli elefanti. No, i plombatari non è che... Oddio, plombata... Ma no, contro gli elefanti i plombatari possono fare poco. Impanicati dal fuoco. Impanicati dal fuoco. Ehm, cavalleria, insomma, qui. Ehm, cavalleria, insomma, qui. Però magari qualche plombata... Chissà. Tu chi sei? Un arciario. Oh... Oh... Ehm, oddio, insomma. Ci sono impanicati. Quindi non so quanto sia vantaggioso. Eh! And. And, perché qui non riusciremo mai a battere. Ehm, credo. Facciamo un attimo continuo, vediamo se... No, no, no. Può bastare... Eh, insomma Abbiamo perso le balise E ora l'ultima battaglia